Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft Hardcore Come vedete è successo un piccolo patatrocchio Sono praticamente senza cibo E un copo di zombie ragazzi, di spada di zombie Ci toglie Ve lo dico Mi toglie 10 cuore alla volta Quindi state attenti Allora io direi di trovare un po' di scheletri Vieni qua piace cane, vieni qua Vieni qua piace cane Senta mamma, sto dicendo Non so mamma Lo faccio apposta Qua abbiamo un bello zombie Aia mortacci tuo Mortacci tuo è un creeper ma visto Devo correre, devo correre, devo correre Via 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 Madonna Madonna Si sta facendo giorno, si sta facendo giorno Devo correre, zitta mamma Non posso Ragazzi, ragazzi Sono morto, sono morto Sei morto No, no, no Non voglio finire la serie Non voglio finire la serie Non voglio finire la serie Mi fuggio, mi fuggio Mamma mia Mamma mia ragazzi Mamma mia Mamma mia Quanto, quanto son bravo con lo stealth Quanto cazzo sono bravo con lo stealth E mangerei questo cuore perché tanto ci reggnerà un po' di vita E andiamo a trovare Andiamo sempre ad exploratio Scusate Il singhiozzo del malaugurio Luca Ciao, ciao, ciao 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 Holy crap Bucchi Uuuuuhh Belice Eccola qua Come cazzo scende forte la fame? Ci dava 1 e mezzo saturazione Guardate la fame mi scende veloce Questa è ridicola Sta cosa è ridicola That is ridiculous Come dice un certo Sandy Awesome Oh my god Sto morendo Allora ci prendiamo Un po di queste Si ma dai facciamo l'upgrade Ma perchè no 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 perchè no No l'armatura di pelle I pig ma si ma Dai ma dicelo anche a noi Diventa un maiale No Attrazione Ma 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 Ok, siamo a 5 minuti Stasera dovrei andare in live con... Dovrei andare in live con... Ok, ci trasformiamo in noi Ok, allora a modo che non prendiamo più la slowness Perché stiamo morendo di fame Allora, qua non sono pianure ma sono le extreme hills È buono questo punto perché Oltre a trovare un botto di animali Troviamo anche un botto di smeraldi In questo modo batteremo il mod... Che useremo per battere il modpock Servono due diamanti e due smeraldi Per farvi vedere la cosa che è spettacolare Che moltiplicheremo praticamente il cibo Ok, allora abbiamo questi Abbiamo 23 di questi Però non sono abbastanza perché rischiamo di morire Allora, io direi Che per ora potrebbe bastare Mangiamo un po' di... Noi ci sono degli squid Potrebbe essere un po' di cibo Però no perché Non mi va di andare sott'acqua Poi li killeremo poi Killeremo più avanti questi robi Questi squid Allora, adesso io direi Di andare a casa a cuocere tutto E fare l'upgrade delle nostre armature Però prima Io direi Sta cosa è ridicola Che mi manca sempre il cibo Sto pacchetto è bello Va bene Aia Mortacci tua C'è anche vabbè Ok, segniamo da qua Poi facciamo Facciamo così Siamo quasi a 8 minuti Ok Allora, andiamo a questa parte Che dovrebbe esserci un po' di cibo In effetti Ok Ok, l'abbiamo killato I bistecchi sono nostri Voi non ci credete Ok Allora Tra poco Andiamo a casa Io direi Trovare un po' di bacche Se troviamo Ma non mi servono le turnip Per favore Beh, luce Mamma mia Andiamo a prendere Quelle seguite Però Però in acqua È pericoloso Perché La fame Potrebbe scendere Più velocemente Perché se premendo Spazio Ok Ok Queste foglie di alga Qua va bene Però Non mi serve più Overpower Ok Allora Siamo andati All'esplorazione Abbiamo trovato Un bel po' Un botto di cibo Un bel botto Quindi Stiamo Stiamo quasi Per giungere Il termine Di questo episodio Io ragazzi Sono Casotime Sono lieto Di fare Questi video Per voi Ma non solo Sono contento Anche di registrare Non solo Minecraft Ma anche Altri giochi Io sono Casotime E metto Di Steal Che siamo Un po' Più Overpower Però Non più Di tanto Perché Dobbiamo Essere Full Osmium Per continuare Allora C'è Sto Scendo Mi sto Scendendo Pensate In un momento Sono un Coglionito Odio La dirt Odio La dirt E sta facendo Pure notte Quindi Non abbiamo Armi Non possiamo Stare la notte Se avete visto Quanto cazzo Rischiosa La notte Perché Più Mi attacchi Un mob Più diventa Pericoloso Più la fame Crolla Più attacco In questo modo Guardate 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 La fame Come scende Più salto Andiamo a casa Ci Io sono Casa Time E Andiamo Nel nostro Rifugio Vedete Che Noi abbiamo Mettiamo A fare un Cassio Ovvero Di nulla E Vi saluto E ci vediamo Nel prossimo Episodio Ci mettete Unipi